Dopo un lungo e difficile percorso, il monumento ai fucilati antifascisti sloveni è diventato monumento di interesse culturale in Friuli, Venezia, Giulia. La nomina, arrivata il 10 gennaio di quest'anno, è stata celebrata oggi dal Comitato per le onoranze ai fucilati e le organizzazioni della comunità slovena in Italia. Un giorno di grande felicità, di serenità, perché è stato raggiunto lo scopo che ci siamo prefissati. La via è stata molto lunga, tortuosa. Gli ultimi tre anni abbiamo lavorato tanto sia per quanto riguarda i dati e tutte le ricognizioni necessarie e siamo giunti alla meta. È un primo passo, è un ulteriore passo anche per la soluzione dei conflitti e delle visioni nazionalistiche che ha avuto queste nostre terre. Per il presidente del Comitato, Milan Pajor, il riconoscimento rappresenta il raggiungimento di un importante e serio obiettivo. Lo sguardo però è rivolto verso il futuro. Sarebbe importantissimo divenire monumento a carattere nazionale perché saremmo equiparati alla risiera di San Sabba. La risiera è riconosciuta, è conosciuta tutta l'Europa e tutto il mondo e attraverso questo nostro monumento che è dedicato alle vittime della repressione fascista, penso che abbiamo tutti i contenuti necessari per poter raggiungere questo obiettivo. Per raggiungere questo traguardo è stata molto importante la collaborazione tra le organizzazioni della comunità slovena, SKGZ e SSO. L'obiettivo era che le due organizzazioni si stringano insieme, anche finanziariamente, perché ovviamente abbiamo preso un professionista che è la Monica Milic, insieme al presidente e organizzatore Milan Pajor, che hanno portato avanti. Perché solo così, col sistema professionale, riusciamo ad ottenere quegli obiettivi che abbiamo in qualche modo creato tanti anni fa. Decisivi per il riconoscimento del monumento, l'incontro è la stretta di mano tra i due presidenti, sloveno e italiano, Borut Pajor e Sergio Mattarella. La speranza è che anche il prossimo capo dello Stato italiano presti attenzione all'integrazione di tutte le comunità in Italia, anche quella slovena, ha dichiarato Xenia Dobrila in vista dell'imminente elezione del successore di Mattarella.